Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati soprattutto buon 2021 perché di fatto con Proteramo ci eravamo lasciati nell'anno che è stato e torniamo con questo primo appuntamento che è il quattordicesimo nella stagione con l'ora insieme consueta per parlare di quello che è accaduto e quello che accadrà ovviamente in casa bianco-rossa Teramo che riduce dal pareggio interno di sabato pomeriggio contro l'Avellino, parleremo di questo, parleremo anche ovviamente di mercato, se ci sono novità, dei rinnovi probabili o che ci saranno nel corso di questa stagione e nel corso delle giornate che rimangono, ma ovviamente lo sguardo si proietterà inevitabilmente all'ultimo turno del girone d'andata con il Teramo che andrà a Viterbo contro la Viterbese, ultimo turno di questo girone, proveremo a trarre anche un piccolo consuntivo di quello che è stato e soprattutto quello che potrà essere perché se qualche settimana fa ci eravamo lasciati con il Teramo che aveva un ciclo di partite non impossibili e purtroppo però non le ha vinte, adesso ci troviamo di fronte a un ciclo di gare molto più complicato, vedremo se magari la squadra di Pace riuscirà invece ad invertire la tendenza. Ne parleremo con voi qualora lo vogliate al 3926237060, anche sulla nostra diretta Facebook, sulla nostra pagina in TV6 dove potete seguirci qualora non siate a casa, siate fuori con lo smartphone o un tablet, è importante che siate soli e che indossiate ovviamente correttamente la mascherina, lo faremo con i nostri ospiti, prima di presentarli fatemi mandare un abbraccio davvero, davvero tanto, grande al nostro Francesco di Francesco che questa sera non c'è, gli mandiamo veramente un bacione da tutta la redazione e speriamo di averlo presto insieme a noi, questa sera non c'è ma tornerà, fidatevi che tornerà a brevissimo anche perché insomma non ha avuto la possibilità di vedere sabato pomeriggio la gara del Bonolis seppur su piattaforma Eleven Sport. Allora saluto gli ospiti, ovviamente i miei due compagni di viaggio, di solito sono tre, stasera sono due, Anja e Andrea, ciao ragazzi, ciao a tutti. E poi lo saluto e lo ringrazio per questo collegamento, il collega di Radio Punto Nuovo Claudio De Vito da Avellino, ciao Claudio. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Questa sera siamo colleghi di gilet oltre che di professione. Sì, abbiamo scelto colori diversi va bene così, insomma con la gravatta più o meno ci siamo. Sì, sì, te hai scelto cravatta a parte più il biancorosso che si addice effettivamente alla nostra trasmissione. Vabbè, con te parleremo della partita di sabato ma anche soprattutto di una volata playoff che riguarda il Teramo, riguarda l'Avellino, riguarda tante altre squadre. Proprio del fatto che ne siano coinvolte tantissime, questo ci interessa e proveremo ad analizzarlo. Vediamo innanzitutto la classifica, poi rileggiamo il messaggio iniziale, l'ho perso, devo dire la verità, ma era in fase di presentazione, non ho letto cosa c'era scritto. L'ultimo turno ci ha detto che di fatto la Ternana, oltre che essere campione d'inverno, allunga ancora sul Bari che pareggia con la Turris e va più otto sulla Ternana, che Avellino e Teramo di fatto a braccetto salgono a quota 28 punti, ieri sera li ha raggiunti anche il Foggia che ha pareggiato all'ultimo istante di fatto contro la Juve Sabia e come vedete ha una partita in meno. Poi aveva tutte le altre fino alla Cavese che chiude la graduatoria con otto punti. Rivedendo un po' le immagini, tra poco Maurizio da qui che saluto in regia ovviamente che ci segue sempre in maniera egregia, rivedendo un po' le immagini di sabato pomeriggio, Claudio, io volevo chiederti un giudizio su questa partita che ha avuto dei momenti magari di maggiore intensità alternati a molti in cui però non ci sono state grandissime occasioni. Ecco, tu che impressione hai avuto dal tuo Avellino ovviamente e dal Teramo? Sembrata un po' la classica partita post-sosta, nessuna squadra ha prevalso sull'altra, Teramo che parte con l'episodio, parte bene, l'Avellino poi stranamente fa la partita, l'Avellino che solitamente si scioglie come è accaduto a Bari quando va in svantaggio, però l'Avellino ecco ci ha messo un po' di giropallo, un po' di palleggio, prima in orizzontale, poi cerca di andare sulle fasce e fa la partita, arriva al pareggio e poi anche qui stranamente perde un po' di coraggio e il Teramo viene fuori nel finale e rischia anche di vincerla, però tutto sommato ci sta questo uno a uno fatto di intensità, anche di parecchi contatti duri e abbastanza, confronti abbastanza rusticani e tra questi appunto il calcio di rigore che alla fine poi sentendo un po' anche Pacino, uno lo giudica come meglio crede, non è scandaloso se lo si dà, lì Bernardotto per tutta la partita ha preso le misure a Diachite che complice la giovane età, alla fine si lascia un po' andare in un affiancamento un po' scomposto a Bernardotto e quindi il duello fisico lo vince e va giù però sostanzialmente, insomma è un uno a uno che ci sta e l'Avellino ci ha messo la grinta, la reattività, Teramo che una volta trovato il vantaggio ha quasi come dire un po' speculato sull'Avellino cercando la seconda palla, cercando di aggredire i difensori in uscita col pallone e qualche volta ci sta per riuscire soprattutto all'inizio prima di trovare il vantaggio con Silvestri un po' in difficoltà però insomma non abbiamo visto una grande partita però è anche un po' diciamo sono anche un po' i pensieri di mercato che fanno un po' frenare come dire l'intensità in campo. Ci siamo, lo possiamo dire, ci siamo sentiti in più di una circostanza nella settimana che ci portava alla partita perché sono stato anche vostro gradito ospite telefonicamente e ho ascoltato che mentre in casa Teramo non c'erano problemi di modulo perché poi in realtà in casa Biancorosso il 4-2-3-1 è diventato una specie di dogma, in casa Vellino invece si parlava molto del fatto da difesa 3, difesa 4, ecco il mercato in questo senso può dare una fisionomia maggiormente definita a questa squadra secondo te? Il mercato dell'Avellino possiamo considerarlo finito nel senso che sono arrivati Carriero, Ianes e Baraje, ovviamente al Bonolis avete visto due calciatori Carriero e Baraje che ancora devono sentire la gamba visto che parliamo di calciatori compreso Ianes che nella prima parte di stagione si sono soltanto allenati ma il campo non l'hanno visto praticamente, Carriero mai al Palma, Baraje per due minuti soltanto con la Salernitana e Ianes ha giocato una partita di Coppa Italia con il Chievo Verona contro il Catanzaro ad agosto. Dicevo il mercato finito, attenzione alla sorpresa, l'Avellino al massimo potrebbe fare qualcosa di diverso in attacco, cioè cercare un po' di fantasia, di qualità, di spunto e potrebbe potrebbe magari con queste due partite che ci sono davanti Sant'Aniello andare a dire alla società, all'allenatore visto che è diventata la quarta punta, ecco andare a dire magari mi faccio un po' da parte, vado da un'altra parte a giocare e cerco più spazio. Potrebbe essere questo lo scenario, l'Avellino andrà avanti con il 3-5-2, Braia voleva fare un'altra cosa, il 4-4-2, però insomma ha elementi duttili che si possono adattare nell'arco della partita, comunque nell'arco della stagione. Albonolis non abbiamo visto Maniero, attaccante di punta che praticamente tra Covid, squalifica e infortuni vari si è visto ben poco, ha determinato poco fino adesso e De Francesco che è un altro mister X quasi in questo momento, però anche con un 3-4-1-2 può andare a fare anche il trequartista. Non mungo però Claudio? Non mungo perché l'Avellino è arrivato fino a un certo punto, lo sapete bene, anche voi, lo sanno tutti, lo sa anche Braia che non ha fatto mistero di questa cosa anche pubblicamente ed è un calciatore che è rimasto nei pensieri dell'Avellino in estate, poi non ci ha riprovato ovviamente a gennaio visto che poi mungo si è anche reinserito bene a dispetto di quelle che erano un po' le voci di mercato che potevano destabilizzarlo in estate e poi insomma da quello che ci risulta non è mai stato sul mercato, se arrivava l'offerta buona il Teramo lo dava via, quindi il Teramo non lo aveva messo in lista di sbarco. Certo mungo avrebbe fatto comodo per tutti i trascorsi che ha avuto con Braia e quando è entrato sabato l'ho visto abbastanza volitivo, volenteroso ed entusiasta, sì per il fatto che entrava e che voleva dare una mano al Teramo, però anche nel mettersi in mostra davanti a Braia, insomma è uno degli obiettivi mancati dell'Avellino compreso Bruccini, parliamo di estate sempre. Certo, tra parentesi due ex cosenza ed ecco perché ci tiene particolarmente Piero Braia, ci avrebbe tenuto a riaverli. Oh, leggiamo prima di andare da Andrea, mi fate rileggere i messaggi che sono arrivati per cortesia perché chiedo vegna, li ho persi. Buonasera, ieri il presidente Iachini ha detto che abbiamo dei buoni attaccanti e dobbiamo aspettare che fisicamente staranno bene, ma io dico, adesso incomincia il giorno di ritorno, ma quanto tempo bisogna aspettare? Andrea, quanto tempo bisogna aspettare? Non ho capito bene la domanda su cosa era incentrata, aspettare cosa? Sugli attaccanti che devono arrivare alla condizione ad Amma. A me sembra chiaro che non c'è più niente da aspettare e non possiamo essere coerenti anche con quello che abbiamo detto, ma poi il campo ha dato la risposta che purtroppo ci aspettavamo. Questi attaccanti purtroppo non hanno tanti gol in canna, Pinzauti gioca dall'inizio della stagione e certo non è che deve entrare in condizione. Bunino e Gerbi bisognava dargli del tempo, il tempo è trascorso, Bunino purtroppo è lì a zero e ha contribuito molto poco, Gerbi ancora di meno, ha avuto anche meno spazio rispetto a Bunino, però se ha avuto meno spazio in un reparto che ha quei problemi, evidentemente anche in allenamento le risposte che dà non sono granché soddisfacenti. Il Teramo ha questo problema dall'inizio della stagione, se non si interviene sul mercato e penso che sarà difficile farlo, si porterà dietro questo problema fino alla fine della stagione. È un peccato, però avevamo individuato in quel reparto, in quella zona del campo, un punto debole e un aspetto da migliorare se si voleva essere competitivi per ampio raggio. Purtroppo devo dire che anche se si fosse intervenuti, il Teramo è partito benissimo ma poi ha perso troppa distanza rispetto alle prime due, soprattutto rispetto alla prima. Certo, il Teramo è ancora in piena corsa per il terzo posto, se il Bari dovesse crollare si potrebbe anche ipotizzare una corsa per il secondo posto, però bisogna mettere mano all'organico. Se non lo si farà, sarà molto dura anche mantenere il terzo posto che, mi riferisco alle parole del DS Federico pronunciate dopo la partita con la Vibonese, è un po' l'obiettivo principale che è stato identificato in termini di classifica. Però se si fa fatica a tradurre in gol quello che si produce, bisogna appoggiarsi quasi solo e soltanto a Bombaggi e a Ilari con qualche tiro dalla distanza di Costa Ferrera, purtroppo si fa fatica. E ripeto, è un peccato perché questa squadra meriterebbe di lottare, almeno per il terzo posto fino alla fine della stagione, perché per il resto ha dimostrato, anche con tante assenze e anche contro l'Avellino, di essere una squadra assolutamente degna di tal nome. Quindi la palla passa alla società e alla dirigenza se si vuole intervenire, altrimenti sarà difficile competere. Tra poco parleremo di mercato proprio con Agna, anche perché ci sono degli sviluppi ulteriori per quanto riguarda la situazione di Piacentini, che è una specie di tira e molla, insomma potremmo essere vicini alla soluzione del caso. Ad ogni trasmissione televisiva si ricorda che al terreno manca un attaccante di peso, ho visto la partita con l'Avellino di Braglia, ebbene, con quattro attaccanti, il calibro di Bagnero, Santaniello, Bernardotto, il capo cannoniere dello scorso anno, cioè Fella, ebbene, sono riusciti a fare un solo tiro in porta, ci vuole gioco per le punte, comunque meglio fare minutaggio, ci scrive Piero. Faccio rispondere Claudio, velocemente, poi Agna vengo da te. Sì, è vero, nel senso che l'Avellino non ha avuto continuità di rendimento nei singoli attaccanti, non ha avuto continuità a Brian allo schierare una coppia, un tandem definito, questo è un po' il tallone d'Achille dell'Avellino. Fella cinque gol, ok, ma ancora deve fare tanto, troppo discontinuo, anche lui ci sono partite in cui spodera dei gol pazzeschi come quello contro il Catanzaro, la rovesciata, se qualcuno di voi la ricorda, è partita in cui quasi si va a nascondere. A Teramo tiro dal limite prima di lasciare il campo, parata di Lewandowski, poca roba, troppa poca roba, ma questo è figlio del fatto che, come dicevo prima, Braia anche per scelta tecnica fa spesso ruotare gli attaccanti, che sono quattro attaccanti, tutti di un certo valore, però alla fine alti e bassi io definirei deludente l'apporto del reparto offensivo. Io però, scusatemi, poi do la parola a Dania chiaramente, io però dissento nella misura in cui il Teramo è stato da subito più squadra, l'Avellino, sicuramente poi Claudio è molto più dentro le cose dell'Avellino, però ha cambiato molto, ha avuto tanti contrattempi, tante partite rinviate, insomma le cose non sono andate granché bene sotto tanti punti di vista e tutte queste cose hanno ostacolato il percorso dell'Avellino. Il Teramo invece aveva imbroccato e ha imbroccato la stagione, è stata subito squadra e ha avuto subito il problema di non tradurre in maniera proporzionale il volume di gioco in gol, perché lì davanti purtroppo mancano dei riferimenti importanti. Quindi sono due situazioni, rispetto a quello che ha detto l'amico da casa, che io ritengo essere diverse, perché l'Avellino ha avuto altri problemi, però ha una rosa di attaccanti importante. Il Teramo invece è stato subito squadra, ma ha avuto il problema di non tradurre in gol la sua mole di gioco. Questo a me sembra il nocciolo del discorso. Claudio, sei d'accordo rapidamente? No, semplicemente prima di far intervenire Ani, altrimenti credo che va via tra poco. Poi in realtà, tra Claudio e Andrea, se volete, da casa, se mi mettete il dual box tra Claudio e Andrea, eccoli qua, mi votate per cortesia chi ha la parete con i quadri migliori dei due. Però devi mettere dei premi in palio, altrimenti poi... Sì, assolutamente sì. Chi ha la parete con i quadri migliori alle spalle. E poi, diamo la parola a Dania, è un peccato visto all'esterno vedere un Teramo così organizzato, strutturato, che gioca bene, magari non come la prima parte dei campionati, però senza un riferimento offensivo, senza un attaccante che capitalizza le giocate del Mungo, del Bombaggi, del Costa Ferrera quando non gioca a Terzino, ma ho fatto per carità solo questa volta, del Di Francesco di turno, di Ilari, è davvero un peccato. Aia, vengo da te perché ti chiedo, mercato, innanzitutto partiamo con la questione Piacentini, a che punto siamo? Siamo alla millesima puntata di questa telenovela che si potrebbe aggiornare nei prossimi giorni, perché ormai il condizionale è d'obbligo, forse già domani o dopodomani ci potrebbero essere novità, passo indietro. Con Piacentini c'era stata un'altra fumata nera la settimana scorsa, prima della gara contro Lavellino, sembrava che ci fosse cosa fatta l'accordo per il rinnovo fino al 2022, riguardiamo che era stato messo fuori lista per il mancato accordo inizio dicembre sul rinnovo del contratto, messo fuori lista, nella settimana scorsa c'è stato questo lavoro diplomatico in atto e un accordo quasi fatto che poi all'ultimo è sfumato e quindi praticamente Piacentini è rimasto fuori dai convocati. Adesso nelle ultime ore sembra che le cose si siano un po' riaperte, ma la palla sta tutta al Presidente Iachini e al Procuratore Silvio Pagliari del giocatore, quindi sta tutto a loro a decidere se risolvere la situazione o meno. Lasciami dire il fatto che a volte il massimo dirigente si è espresso con parole forse un po' troppo forte nei confronti del Procuratore e questo non so quanto può portare ad una tonata bianca effettivamente della questione, a meno che Piacentini non tagli fuori dalla decisione Pagliari, allora poi però a quel punto Pagliari può dire ok magari ti puoi anche rivolgere altrove per quanto riguarda insomma procuratori vari, quindi è un po' un gioco ad incastro di cui a farne le spese in questo momento è sicuramente il giocatore, che è un giocatore valido, chi non sta giocando e non sta trovando spazio, bisogna magari nelle prossime ore attendere qualche novità, ma visti i precedenti non so se saranno positivi o meno. Attacco e poi i discorsi intavolati con il Sassuolo su Santoro, Diachite, soprattutto Diachite. Per quanto risulta, per quanto abbiamo raccolto anche questa mattina, in attacco non sembra che ci sia attualmente la volontà di fare qualcosa se parliamo di movimenti in entrata, era circolata nelle scorse settimane l'ipotesi di muoversi per un esterno d'attacco, però anche questa in questo momento sembra messa in congelatore perché poi bisogna valutare evidentemente quanto ci sia di volontà da parte del Presidente Diachini di investire ancora sulla rosa per quanto riguarda questa finestra di riparazione di mercato e quindi al momento gli unici discorsi che riguardano un attacco sono interessamenti per Bonino, ma quindi sono movimenti in uscita, sarebbe un movimento in uscita e non c'è attualmente la volontà da parte del Teramo di far partire Bonino perché poi ovviamente si dovrebbe muovere la società bianco-rosso per cercare di colmare questa lacuna che si andrebbe a creare, poi bisognerebbe anche sentire il Pescara perché è un giocatore di proprietà del Pescara, ma credo che al fine al Pescara interessi soltanto che l'attaccante venga impiegato, quindi credo che sia indifferente la destinazione di Bonino che è attualmente a Teramo e dovrebbe rimanere a Teramo fino al termine della stagione. I movimenti, gli interessamenti in questo momento sono concentrati solo sul terzino destro perché l'ASIC purtroppo non garantisce fisicamente continuità visti i problemi muscolari che purtroppo ha ogni spesso, ogni paio di settimane, insomma c'è qualche novità in negativo per il giocatore che non riesce a trovare pace, è un profilo quello che il Teramo sta cercando esperto, ci sono arrivate riscontri nelle scorse ore per quanto riguarda il discorso di Cancellotti che ovviamente non è una cosa campatenaria ma è una cosa verificata con addetti lavori e anche dalla società biancorossa non sono arrivate smentite in tal senso, quindi è un'idea di mercato, il mercato può proporre magari può offrire idee che in questo momento magari non sono percorribili ma che nel corso del mese di gennaio si possono concretizzare. Anche il discorso Cancellotti-Mungo è stato ovviamente verificata e potrebbe essere un'ipotesi perché Cancellotti non gioca a Perugia, Mungo è vero che sta comunque giochicchiando a Teramo, potrebbe essere un discorso insomma di trovare... Però il terzino destro serve più di il trequartista? Sì assolutamente, al Teramo serve assolutamente un terzino destro anche perché il campo e pace hanno confermato che prima Celentano e poi Trasciani non sono adatti altrimenti non avrebbe mai spostato Costa Ferreira. Assolutamente, Andrea, Claudio vi faccio vedere anche questa bagarre playoff dove ci siamo andati a ficcare e considerate che io, perché non c'entrava la Juve-Stabbia che viene dopo. Allora, io ho messo le prossime quattro partite, l'ultima del girone d'andata e le prime tre del girone di ritorno con le stelle di difficoltà, ora correggetemi, insultatemi se ho messo qualche stella in più o in meno. Il Teramo, Avellino e Foggia come vedete 28 punti, il Teramo per me ha il calendario più difficile per due motivi, innanzitutto perché ha tre trasferte su quattro partite, poi perché ha una trasferta complicata ma delle quattro sulla carta la più semplice, quella di Viterbo, poi va a Palermo in casa con il Bari e un altro scontro diretto con il Foggia, quindi ha di fatto tre scontri diretti in chiave playoff, una partita complicata a Viterbo e di queste quattro, tre le giocherà in trasferta. L'Avellino, due stelle, Claudio anche qui voglio il tuo giudizio, un calendario tutto sommato non impossibile, probabilmente l'impegno più insidioso è Torre del Greco alla prima del girone di ritorno contro la Turris, poi in casa con la Cavese, trasferta come detto con la Turris, in casa con la Viterbese e fuori a Bisceglie. Ci sono andato, Claudio, molto lontano dalle due stelle, abbiamo fatto una disamina per il calendario dell'Avellino, poi ad Andrea Dania chiediamo il calendario del Teramo. Sì, è così, con la Cavese non esiste altro risultato se non la vittoria, è chiaro con la Turris, è una squadra che soprattutto in trasferta e soprattutto con le grandi si esalta, pareggio a Terni, pareggio a Bari, vittoria a Palermo, ha perso solo a Catanzaro, pareggio a Catania, insomma è una squadra che sta dicendo la sua con dei giocatori anche molto interessanti, vedi Pandolfi che davvero ha fatto un terno all'otto il Presidente Colantone della Turris, calciatore preso a titolo definitivo, adesso vale davvero oro colato. Poi è chiaro, Viterbese, Bisceglie, Mavellino deve cercare di capitalizzare questa fase di gennaio-inizio febbraio con i nuovi acquisti, anche se come dicevo prima sono innesti che dovranno carburare e dovranno attendere qualche settimana, però l'Avellino come ricordava Andrea prima ha avuto un girone d'andata davvero difficoltoso con la fase di novembre, tre settimane di stop e ha giocato 9 partite in 25 giorni dal 29 novembre al 23 dicembre. Ora, a parte gli acquisti sul mercato, il grande acquisto dell'Avellino è giocare una partita a settimana, lasciando stare chiaramente i turni infrasettimanali già da calendario che sono 5, 2 a febbraio, 2 a marzo e 1 ad aprile, però ecco, uscire da questo tour de force terribile, quello di novembre-dicembre per l'Avellino è già di per sé un grande risultato. Ragazzi, invece rivediamo il calendario del Teramo e anche delle avversarie, perché poi in realtà il Catanzaro è l'unica che all'inizio riposa, ma è anche vero che il Catanzaro ha una partita in meno perché è stata sospesa la gara di domenica proprio contro la Viterbese. Che dite del calendario del Teramo in relazione anche alle altre? Io intanto faccio una premessa che da un lato ci fa capire quanto il Teramo abbia spinto all'inizio, ma anche il fatto che chi ora ha rimontato non ha un ritmo insostenibile, perché se pensiamo che il Teramo non vince una partita da quasi due mesi e nessuna squadra di queste che hanno rimontato poi è stata in grado di scavalcare il Teramo, pur avendo ad esempio questa opportunità, alcune delle squadre nell'ultima giornata di campionato, mi fa capire che insomma il ritmo che viene portato da queste squadre qui non è insostenibile, tutt'altro, ed è anche il motivo per cui il Laternani in particolare e in parte il Bari hanno fatto il vuoto. E tra le altre cose il Palermo che era in grandissima difficoltà è sostanzialmente rientrato e se il Teramo non dovesse battere la Viterbese a Viterbo ci sono delle probabilità che poi nella partita di Palermo il Palermo possa addirittura saltare addosso al Teramo, perché il Palermo ha la partita con la Virtus Francavilla al Barbera, dove comunque il Palermo ha perso diversi punti e poi riceve sempre al Barbera il Teramo. Sicuramente è un momento fondamentale per la squadra di Paci perché bisogna in questo momento riguadagnare smalto, riguadagnare fiducia, rintuzzare l'attacco per quanto non è eccelso delle avversarie e se si riesce a superare in qualche modo indenni questo ciclo di partite dove c'è anche il Bari da ricevere al Bonolis e dove ci sono queste trasferte a Palermo e Foggia, oltre che quella comunque insidiosa di Viterbo, il Teramo potrebbe guardare con fiducia al proseguo del campionato. Se invece questo periodo di flessione e di mancata vittoria che appunto non c'è da metà novembre dovesse protrarsi, poi anche per il morale oltre che per la classifica sarebbe molto difficile rimettersi in carreggiata. Il Teramo avrebbe perso l'attimo fuggente, ma più che un attimo parliamo molto più di un attimo perché come detto sono trascorse tante settimane dall'ultima vittoria. Aia, rapidamente per voi vi faccio vedere una cosa. Io guardo già la gara di domenica in casa della Viterbese che non sarà una gara semplice perché anche domenica scorsa ha dimostrato di saper imballare il Catanzaro e il Catanzaro è una delle squadre accreditate per stare più in alto, quindi la Viterbese per lo meno sa farti giocare male o non sa farti giocare, quindi sarà una gara già complicata quella per il Teramo. Poi le altre, paradossalmente c'è una situazione diversa rispetto al girone di andata. Magari nel girone di andata il Teramo ha approfittato di un Palermo che non era ancora un Palermo, il Bari che non era ancora il Bari, il Foggia, la gara quella lì di andata è stata rinviata perché il Foggia ha iniziato più tardi a giocare e adesso invece si vive in una situazione opposta, cioè il Teramo non è quello della fase iniziale, del girone di andata. Anche quando si parla dell'attaccante e sono d'accordo con il messaggio che è arrivato prima, non si nota però che contestualmente non ci sono grandi soluzioni offensive in questo momento che il Teramo riesce a portare nei pressi della porta, tanto che anche i centrocampisti se non con sporadiche occasioni riescono a segnare. All'inizio si parlava di cooperativa del gol, poi questa cooperativa del gol che riusciva un po' a nascondere la mancanza di un centravanti si è inceppata e adesso questa mancanza delle centravanti e anche delle soluzioni offensive alternative sono evidenti. Assolutamente. Vi faccio vedere una cosa, prima di andare in pubblicità e salutare Claudio Di Vito per essere stato con noi, lo salutiamo davvero, lo ringraziamo tanto, però siccome poi ho sentito nelle ore, subito dopo nei minuti, subito dopo la partita di questo famigerato pallone perso da Bombaggi che ha scaturito l'azione del rigore dell'Avellino, allora noi ve l'abbiamo velocizzata, questa è tutta l'azione dal rinvio di Lewandowski, sì è vero che perde palla, ma guardate dove perde palla, perde palla a 80 metri dalla porta ragazzi, sì è vero che poi l'azione riparte e arriva il calcio di rigore, però mi è sembrato un po' ingeneroso dare la responsabilità a Bombaggi di questo gol, seppur indirettamente. Andrea, voi che ne pensate? È stata più pericolosa la palla persa che poi aveva portato al tiro di Fella, piuttosto che come azione pura, insomma, questa si ha portato al calcio di rigore, ma appunto era 80 metri di distanza dalla porta, lì era nella tre quarti di campo del Teramo, che poi insomma il tiro è stato parato da Lewandowski. Andrea, sei d'accordo? Ma assolutamente sì, quando c'è un'azione di ripartenza, l'azione di ripartenza nasce da un recupero di palla, lì c'è stato un contrasto, è stato vinto dal giocatore dell'Avellino, ma insomma non mi pare che si sia aperta una prateria, è stato bravo l'Avellino ad andare lì sulla sinistra e poi con quel contrasto a guadagnare il calcio di rigore, ma insomma mi sembra un errorino, ma proprio vegnale. Inoino, inoino. Inoino, ma... Ragazzi stiamo per andare in pubblicità, oggi peraltro è stato anche il giorno della rielezione di Francesco Ghirelli a capo della Lega Pro, ha vinto, lo vediamo, con un margine amplissimo, 49 voti contro 3 di Borghino, vittoria nettissima, schiacciante per il Presidente uscente, dunque riconfermato a capo della terza Lega Nazionale, ha parlato di coinvolgere le altre leghe di Serie A e di Serie B sui diritti televisivi e quant'altro, la situazione chiaramente non è facile e la Serie C ne paga le conseguenze maggiori. Vediamo anche i due vicepresidenti, la composizione anche del direttivo, tra un po' la vediamo, ecco qua i due vicepresidenti sono Marcel Vulpis che in realtà era uno dei candidati all'inizio contro Ghirelli che però poi è entrato di fatto all'interno della lista, chiamiamola così, Ghirelli, Luigi Ludovici l'altro vicepresidente e poi i sei membri del direttivo che di fatto geograficamente ripercorrono un po' i tre gironi, sono due dirigenti del girone A, due del girone B, due del girone C, Alessandra Bianchi del Padova, Mauro Bosco della Vispesaro, Angelo D'Agostino, caro Claudio dell'Avellino, entra a far parte del direttivo della Lega Pro, Orazio Ferrari della Pistoiese, Antonio Magri della Virtus Francavilla e Patrizia Testa della Propatria, dunque le due società che hanno un membro all'interno del direttivo sono appunto l'Avellino e la Virtus Francavilla, noi stiamo per andare in pubblicità, Claudio io ti saluto, ti ringrazio, ovviamente giornalista di Radio Punto Nuovo, peraltro io ve la segnalo se volete sapere notizie non solo sull'Avellino, anche proprio sul calcio perché noi siamo appassiati di calcio, ma anche sulla cronaca, Campano e non solo, Radio Punto Nuovo, davvero un'informazione puntuale e sempre presente, grazie Claudio per essere stato con noi, noi stiamo per andare in pubblicità e attaccata alla pubblicità vi faccio vedere uno spezzone perché a me è venuto in mente, ragazzi voi siete cinefili? Sì, pochino, quindi diciamo che il cinema beside, vi sto chiedendo un po' troppo, forse sì allora, siccome a me, devo dire la verità, si è parlato tanto di Massimo Paci, tanti complimenti grande, grandissimo Paci, mi è ritornato in mente un refrain di un film molto beside del 2000, di 21 anni fa, quindi assolutamente, Massimo Ceccherini e Alessandro Paci che interpreta se stesso, con un Marco Giallini che era agli inizi della carriera, ve lo facciamo vedere perché mi sono immaginato come potrebbe essere ogni tanto quando magari Paci fa qualche scelta e qualche risultato non arriva, ce lo vediamo e poi pubblicità allora, grande Paci grande Paci, grande, sei un grande sei un grande Paci anche, grande, grande Paci come with me for fun in my pocket sei un grande grande Paci come with me for fun in my pocket io non riesco a dormire ci pensi, vai siete un mese da soli in trenta un mese soli, sì sì soli, 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 soli sei un grande domattina, domattina colazione al sacco colazione al sacco e via, via scalare, scalare, scalare sì, 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 fermiamo sotto un albero e facciamo un mese stiamo attento siete soli un mese, un mese, sei un grande sei un grande, grande, grande eccoci rientrati seconda parte di Proteramo per questa sera allora, questo pomeriggio ha parlato tra gli altri anche Costa Ferreira che, insomma, sabato pomeriggio è stato utilizzato in un ruolo insolito che ha fatto, sì, già in passato nella sua carriera come terzino destro ed è andato bene il portoghese ha parlato anche dei cali di concentrazione e poi, Ania, una tua precisa domanda insomma, ha ammesso che si vede anche in futuro sempre nel mondo del calcio seppur in un'altra veste lo ascoltiamo a inizio campionato stavamo molto attenti ai dettagli al minimo errore al minimo sbaglio nostro invece, diciamo, nell'ultima partita da quando non stiamo magari riuscendo a trovare la vittoria siamo calati un po' nella concentrazione totale, diciamo, nei 90 minuti forse ci sono dei momenti dei blackout, diciamo, mentali in cui viene a mancare un po' l'attenzione e giustamente l'avversario poi ti colpiscono forse è questo che ci manca ancora come ho detto in un'altra intervista ci manca questo step, questo passo per migliorare ancora perché è il dettaglio, quello che sta facendo la differenza fino adesso, perché non è che tutte le squadre ci hanno messo sotto anzi, a livello di gioco a livello di essere pericolosi noi ci siamo però ecco, manca questo questo particolare questa attenzione ai dettagli che poi alla fine la stiamo pagando vorrei giocare sempre, ovviamente però ecco mi trovo bene anche da esterno basso è un ruolo che ho già ricoperto il mister mi ha chiesto in settimana la mia disponibilità non ho esitato ovviamente ad essere disponibile in quel ruolo perché lo conosco bene l'ho fatto quindi non non sono problemi il nostro lavoro siamo sempre sotto esame perché poi dobbiamo parlare sempre in campo o sei in scadenza o c'hai il contratto di tre anni alla fine conta poco nel senso che deve essere il campo quello a parlare le prestazioni di far andare bene la squadra quindi ad oggi come ha detto il Presidente non rinnova nessuno noi io tutta la squadra siamo concentrati a far bene il meglio del Terram perché poi comunque alla fine anno come dice il Presidente se abbiamo fatto bene non penso che abbia dei problemi a rinnovarci quindi è una motivazione in più per far bene penso almeno da parte mia se manca la vittoria vuol dire che qualcosa non siamo riusciti a farla bene però ecco non è che manca così tanto a raggiungere questi tre benedetti tre punti perché comunque come ho detto prima le prestazioni ci sono state non c'è stata una prestazione una partita dove noi non siamo mai scesi in campo quindi alla fine è un episodio un episodio che ci può far scattare quella scintilla e farci decolare come inizio campionato ti piacerebbe fare l'allenatore ti ci vedi un panchino sì è una cosa che la vorrei fare poi dal dire al fare ce n'è un bel po' di strada però è una cosa che vorrei tentare fare subito l'allenatore anche da giovane perché magari iniziare un po' più tale diciamo che è un po' più difficile quel cross per Pizzotti era venuto proprio bene sì diciamo che in quella situazione anche un po' di sfortuna perché una giornata così piovosa campo bagnato palla bagnata la palla che sbatta sul palo interno non entra ecco 9 su 10 va dentro quella palla però ecco magari ci capiterà domenica e entrerà dentro speriamo oh ma è banale Costa Ferreira ha parlato di blackout mentali e proprio di questo Ayan volevo parlare con te nel senso che effettivamente Costa Ferreira quando parla e si vede che è un giocatore di grandissima esperienza dice cose anche davvero non banali quasi contro il calcisticamente corretto che si sente di solito blackout mentali cioè non ha non ha utilizzato giri di parole no quando non i calciatori non usano quasi fatti fa un po' notizia anche se dicono cose alla fine normale è successo anche con Bombaggi che ha detto la verità qualche giorno fa ed è stata presa un po' come una cosa strana proprio perché non si rifugiava dietro frasi fatte anche Costa Ferreira è uno di quelli insomma con un'intelligenza superiore e che quindi rinuncia alle frasi fatte per per fare un'analisi un po' più approfondita lui ha detto lui ha detto in particolare un paio di volte paura di vincere che è un po' un tunnel mentale in cui il Teramo rischia di stare ancora di più rispetto a quanto già non sia adesso se non riuscirà a trovare la vittoria già domenica prossima insomma perché se vincere aiuta a vincere non vincere è chiaro che ti mette paura anche quando stai sopra di un solo gol di non riuscire a portare a casa poi tre punti cioè paradossalmente si instaura un atteggiamento del tutto sbagliato tu sei avanti ma hai già paura di prendere gol perché non vinci più da tanto tempo e quindi non sai più come gestire magari una situazione in cui sei davanti all'avversario e lì c'è anche se ricollega l'incapacità del Teramo di chiudere le partite perché vai avanti 1-0 devi avere la forza comunque anche le capacità in maniera anche sporca e questo si ricollega all'assenza di un centro avanti dal feeling un po' più deciso tra virgolette con il gol disegnare anche in situazioni non pulitissime quindi non solo mancanza di soluzioni offensive rispetto alla prima parte di stagione che erano un po' più evidenti ma appunto questa mancanza di un centro avanti che magari ti risolva una partita e ti tolga un po' dell'impasse e ti tolga questa paura che non c'è appunto questo attaccante quindi la paura di vincere si batte soltanto vincendo e il Teramo deve uscire da questo tunnel il prima possibile per evitare che questa paura che ha sottolineato Costa Ferreira questi blackout mentali di concentrazione lui ha parlato anche di dettagli che non vengono curati come invece erano curati nella prima parte di campionato sono tutti aspetti che evidentemente lui da giocatore più esperto ma anche gli altri ovviamente hanno notato ma che in questo momento il Teramo non riesce a superare prima magari c'era l'entusiasmo poi come ha detto Andrea la settimana scorsa un po' di settimane fa non ricordo la sconfitta contro la Ternana ha cancellato un po' questo entusiasmo che il Teramo aveva inizialmente e ha forse un po' reso il Teramo più debole tra virgolette per quanto riguarda la propria consapevolezza personale la propria fiducia nei mezzi e quella fiducia che invece la formazione di pace deve ritrovare Andrea ci hanno scritto se va via Bombaggi attenzione perché siamo fregati ma io non credo che i destini di una squadra possano essere legati ad un giocatore seppur importante come Francesco Bombaggi non me ne voglia eh Francesco ci mancherebbe bisogna capire quelli che sono i piani perché anche questa squadra è forte perché veniva era stata costruita per essere molto forte competitiva poi alcuni elementi sono andati via altri sono rimasti ma nel complesso questa squadra è rimasta forte e Paci l'ha fatta rendere bene soprattutto nelle prime giornate ora c'è questo fatto di non rinnovare subito poi bisogna vedere cosa fa realmente la società cioè non rinnovi ma provi a coltivare il Bombaggi di turno il altri giocatori in scadenza marchi le situazioni cioè se ci sono club che stanno adocchiando che possono proporre un contratto altresì importante a questi giocatori e magari tu cercherai più o meno di pareggiare l'offerta o se non puoi pareggiare comunque di convincere con la progettualità i giocatori cioè farà questo il teramo oppure a prescindere dal rendimento sotto sotto c'è volontà di non rinnovare questi giocatori perché hanno alcuni di loro degli stipendi importanti e non si vuole più percorrere questo tipo di strada il che comunque è assolutamente legittimo e su questo io penso che la società se non subito ma comunque nelle prossime settimane nei prossimi mesi dovrà potrà e dovrà essere più chiara perché poi si può restare se il teramo ora difficile faccia prima quasi impossibile magari farà i playoff non si sa come andrà se dovesse ripartecipare a un campionato di serie C può farlo mediante altri presupposti facendo una squadra veramente più giovane perché ora ci sono giovani ma ci sono anche giocatori attempati e maturi si può fare una rosa ben più giovane con qualche senatore puntare la loro valorizzazione e diciamo così ristrutturare anche anche il bilancio ristrutturare il budget ripensarlo ma queste sono scelte logiche che logiche giuste che se vediamo i giocatori in scadenza secondo te di questi quali rimangono se vediamo la schermata dei giocatori in scadenza ponendo ad esempio che il tuo ragionamento sia corretto allora io di quelli di quelli che vedo io penso che potrà restare o meglio io ma questo è un mio pensiero si farà il possibile per tenere un giocatore come Ilari magari tenere un giocatore come Iotti ma senza necessariamente che sia un titolare magari Iotti può essere un rincalzo di una coppia giovane tipo la coppia giovane che ha giocato l'altra sera contro contro Lavellino i giocatori che tra virgolette costano un po' di più tipo il Costa Ferreira tipo il Bombaggi forse di loro si farà a meno Tentardini un altro giocatore che potrebbe restare anche in questo progetto ma io penso che con il campionato che sta facendo Tentardini sarà stato adocchiato sarà adocchiato da club che saranno ambiziosi poi non so se lui vuole riavvicinarsi al nord oppure se gli sta bene comunque è un professionista giocare anche lontano da casa dai suoi territori di riferimento quindi insomma vediamo però tutto sta nel capire quella che sarà la prossima progettualità del terro perché l'attuale progettualità nasce dall'estate dell'acquisizione del club e c'era un ragionamento in grande poi le cose sono cambiate subito a giudicare insomma da quello che è successo successivamente e quindi ci può stare che la prossima progettualità quindi quando ci saranno tutte queste scadenze dei contratti bisognerà rinnovare ristrutturare la rosa magari sarà una progettualità diversa quindi più giovani meno senatori meno giocatori che costano notevolmente e lo stesso cercare di fare un campionato non per questo un campionato solo e soltanto a salvarsi se si ha il giusto occhio e il giusto acume si possono fare squadre economiche ma anche competitive vedasi il monopoli dello scorso anno Ania ci chiediamo ma perché Paci non gioca con due attaccanti sì prima rispondiamo al telecomitatore da casa che ci dice ma perché il Teramo non gioca con due attaccanti perché loro rispondono che due attaccanti già ci sono perché Bombaggi magari vengono più avanti a giocare con Pizzaguti con Molino o quant'altro oppure perché due più zero più zero che sono i gol segnati ok anche anche però poi effettivamente due attaccanti insieme forse una partita mi pare in una gara in corso sono stati provati ecco ma non ci sono non ci sono mai stati quindi mi pare una volta Pizzaguti e Bonino hanno giocato insieme però non mi ricordo in quale gara ma magari in corso quindi mai dall'inizio è un modulo 4-2-3-1 o 4-3-3 che talvolta si è visto che sono i moduli preferiti da pace quindi anche ipotizzare una difesa a tre sono quelle cose che dici non l'hai mai fatto non credo che lo farà adesso è anche è anche giusto io una cosa ancora non riesco io pensavo che dopo Bisceglie l'esperimento Santoro in tre d'attacco non sarebbe più stato riprovato e invece e invece perché secondo me non è il suo ruolo non ha le caratteristiche per ricoprirlo almeno adesso non in generale almeno adesso e invece con Lavellino abbiamo rivisto Santoro in quella posizione ma vedi allora che la linea giovane è già entrata in atto no ma ci mancherebbe la questione è un po' diversa i giovani bisogna metterli dove possono rendere al meglio Santoro Bisceglie poteva essere definito analizzato messo a bilancio come una casualità bene secondo me a giudizio strettamente personale Avellino ha dimostrato che Santoro quella posizione in questo momento non può ancora interpretarla il problema è che giocando Viero devi togliere a rigore a quel punto se deve giocare anche Santoro comunque queste poi sono valutazioni che farà l'altro da Avellino ha giocato a piedi invertito rispetto a Bisceglie quindi lo ha messo un po' secondo me ancora di più difficoltà è stato giocato a sinistra e non a destra nei tre ma a sinistra al posto di Costa Ferreira comunque insomma le alchimie sono tante ragazzi secondo voi a più quanto sta pace rispetto a Tedino ve lo faccio vedere nelle gestioni è tornato a più 5 perché nella stessa giornata il termo di Tedino perse 3 a 0 al Bonolis contro la Regina che vinse il campionato a livello proprio meramente di andamento della curva ecco che ci vedete ragazzi? beh c'è sempre una forbice che ha raggiunto un certo apice tenuto conto che fino alla partita con la Ternana il Teramo ha avuto un ritmo davvero notevole poi però questa forbice si è contratta quando il Teramo di Paci è calato e il Teramo di Tedino ebbe prima di quegli scontri diretti una fase sì però complessivamente questo Teramo è stato più convincente ha fatto meglio e dire che questo grafico lo dimostra apertamente assolutamente oh vi faccio vedere le immagini della gara rinviata di Catanzaro tra Catanzaro e Viterbese perché la Viterbese sarà il prossimo avversario del Teramo in campionato peraltro la Viterbese dice che è un è un un abitué del Teramo con le e soprattutto in Coppa Italia tra un po' uscirà un nebbione omerico e vedrete che non si vedrà praticamente più nulla la partita era ancora sullo 0 a 0 e è stato costretto l'arbitro a a interrompere a interrompere la partita ma prima di parlare con prima di parlare della Viterbese tra un po' lo vedo già collegato video ma tra un po' lo sentiremo anche innanzitutto poi gli facciamo anche complimenti perché un dirigente molto importante è il calcio italiano che conosce bene Teramo e la piazza di Teramo che ci ha tenuto a venire a vedere la partita contro contro l'Avellino il tra un po' lo sentiamo non so se mi ascolta direttore mi ascolta Mauro Meluso direttore sportivo dello Spezia noi probabilmente non lo sentiamo magari diamo il tempo magari di attivare in basso a destra di attivare l'audio se vuoi ti chiudo il discorso di prima si con il discorso di prima così diamo la possibilità direttore di attivare l'audio mi ricollegavo ad Andrea dandogli un ulteriore spunto perché l'anno prossimo salvo ulteriori colpi di scena insomma dovrebbe essere l'anno che poi porterà la riforma della Lega Pro nel nel 2022 e nel 2023 quindi l'anno prossimo dovrebbe essere l'anno in cui insomma Teramo come tante altre squadre che ambiscono a questa Lega Pro unica serie C elite deve fare una squadra insomma di caratura importante per cercare di stare insomma in questi eventi professionisti in questi eventi club professionistici che saranno appunto inseriti in questa terza serie elite e quindi immaginare anche le partenze di giocatori di esperienza che sono adesso a scadenza come Costa Ferreira come Bombaggi ma come anche lo stesso Ilari va un po' a insomma a a a non pareggiare con questa volontà insomma di entrare nella Lega Pro unica cioè questi giocatori devono essere la base per la squadra del prossimo anno che dovrà lottare per un obiettivo importante altrimenti bisognerebbe tornare sul mercato per cercare giocatori di pari livello ma non avrebbe senso perché sarebbe come un ricominciare da capo quindi prolungare questi giocatori chi più chi meno insomma poi ovviamente la società farà le sue scelte credo che sarebbe la base migliore dalla quale puoi partire l'anno prossimo per cercare di entrare in questa Lega Pro unica assolutamente assolutamente io non credo che il direttore ci senta ci senta ancora il direttore ci sente? no non credo non credo che senta se non so se ha attivato se ha attivato o disattivato l'audio in basso in basso a sinistra del del poi magari chiederemo cosa pensa di Diego perché perché noi veramente lo avevamo chiamato proprio perché era sugli spalti del Bonolis per vedere Terra Movellino e per per cercare di capire se questo di Akitea aveva fatto l'impressione l'impressione che 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 fa tutti adesso vedo che ha l'audio disattivato ma adesso forse potrebbe sentirmi io io mi sento ma voi mi sentite? ecco direttore adesso la sentiamo adesso la sentiamo sono io la sentiamo allora innanzitutto scusate scusate di ritardo ma mi sono accorto tardi dell'appuntamento perdonatevi non c'è nessun problema perché poi ho capito perché perché giustamente è in campo il Torino in Coppa Italia con il Milan e voi direte che c'è il Torino ma domenica c'è Torino Spezia ed ecco perché esattamente ed ecco perché il direttore giustamente stava guardando la formazione della purzese Giampaolo perché affronterà lo Spezia addirittura innanzitutto complimenti per la vittoria di ieri sera contro la Sampdoria lo Spezia ne ho promosso peraltro di italiano prima abbiamo sentito Costa Ferrera che insomma con l'italiano ha un grandissimo rapporto però so che lei è venuto a vedere Teramo Avellino innanzitutto ci dice che impressione ha avuto del Teramo lei che la piazza di Teramo la conosce molto bene beh innanzitutto buonasera scusate di nuovo il ritardo io conosco molto bene la piazza di Teramo perché sono un teramano adottato ho sposato più di 30 anni fa una donna teramana e quindi mi sento a tutti gli effetti teramano anche se purtroppo Teramo l'ho vissuta poco perché poi per lavoro sono sempre stato in giro però i miei figli sono teramani e io a Teramo forse è l'unico posto dove mi sento a casa perché comunque sono calabresi nascita tanti anni fa ho lasciato quando avevo 14 anni ora questo piccolo escursus della mia vita ho sempre a cuore le sorti del Teramo io sono sono venuto per vedere un po' la partita per vedere qualche giocatore insomma qualche giovane interessante che è il Teramo e ho visto un Teramo molto ben organizzato una squadra che ha un'identità ben precisa ho rivisto con piacere due miei ex giocatori che sono Arrigoni e appunto Costa Ferreira che sono stati con me nel Lecce nel Lecce vincente di C e di B quindi insomma ho visto il presidente Iachini i miei amici Torazio insomma e quindi insomma sono venuto per lavoro ma insomma è stato anche mancavo da Teramo da tanti mesi perché questo coronavirus insomma ha condizionato un po' la vita di tutti quanti noi e quindi sono sono molto contento di aver rivisto faccia a Michele direttore ci dice che cosa ne pensa dei gioielli di casa Teramo ecco di Achite Suttotti ma anche Santoro ha giocato anche Piero che è un classe 99 ecco che giudizio ne ha tratto? Molto positivo molto positivo ora non mi fate dire troppo perché insomma poi non è corretto professionalmente no? Comunque insomma dei giudizi molto positivi di tutti i ragazzi giovani ma insomma nel complesso la squadra quest'anno insomma sembra una squadra che ha un modo di stare in campo ben definito che riesce a mostrare spesso io ho visto il Teramo anche in video altre volte insomma riesce a mostrare un calcio propositivo fatto sempre comunque con voglio dire italiano che il mio allenatore ha fatto giocare nel Trapani Costa Ferreira da Terzino Destro e Paci lo ha riproposto l'altra sera quindi insomma Paci secondo me è un allenatore emergente un allenatore che fa la strada insomma gioca sempre con una propulsione offensiva quindi senza pensare a difendersi ma cercando di produrre di produrre calcio poi è evidente insomma che è una squadra ben costruita che però sulla sua strada ha trovato la Ternana il Bari il Palermo il Foggia il Catà che sono tutte squadre di grande blasone ma soprattutto credo che la Ternana sia una squadra che ha un organico che nessun altro ha nel girone C di 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 Serie C direttore le chiedono da casa se italiano è già pronto per allenare un top club ma io credo che italiano abbia tutte le carte in regola per allenare una squadra di più alto livello però insomma io mi auguro che rimanga con noi per più tempo possibile insomma quindi mi auguro che appunto che intanto ci conduca alla salvezza che è l'obiettivo stagionale sarebbe per noi veramente come vinceva uno scudetto direttore a proposito di giovani una considerazione che volevamo fare con lei poi magari le lascio una domanda di Andrea e una di Aria in Lega Pro quando si vedono giocatori 99 2000 anche 2001 ecco quando un dirigente di una squadra di Serie A come lei va si approccia a categorie magari inferiori quando è che si ha la sensazione che un giocatore sia già pronto per fare un salto verso categorie superiori è un discorso abbastanza complesso nel senso che per far sì che un calciatore abbia le caratteristiche per giocare nel massimo campionato deve essere abbastanza completo e spesso insomma è evidente che le categorie ci sono proprio perché per quello che si esprime e spesso magari c'è un calciatore molto bravo tecnicamente che però nelle categorie inferiori la mia carriera è stata tutta in Serie C adesso non voglio fare il professore universitario ma umilmente vi dico che magari in Serie C si trova purtroppo è saltata è saltata la linea con il con il direttore vediamo vediamo se ritorna altrimenti altrimenti forte tecnicamente e quelli sono difensori della 50 milioni quindi li può prendere la Juve l'Inter il Milan il Madrid il Barcellona il Paris Saint-Germain quindi è evidente che nelle categorie inferiori si cerca di scovare quel quel giovane che magari riesce di capire se tutte queste caratteristiche appunto tecnica velocità fisicità e soprattutto applicazione mentale quindi diciamo forza nel poter esprimersi anche in situazioni stressanti e queste sono tutte cose che bisogna cercare di trovare tutte insieme e non è semplice infatti molti giocatori che magari ai quali manca una di queste caratteristiche magari giocano in Serie B o in Serie C però io sono per insomma cercare di fare un calcio sostenibile con dei giovani perché noi ieri sera il nostro centrocampo era formato da un argentino che si chiama Esteves del 95 un francese che si chiama Agumet che è di proprietà dell'Inter che si chiama Agumet che è del 2002 quindi ha 18 anni deve farne ancora 19 e Pobega che è del Milan in prestito da noi che è del 99 quindi ha 21 anni solamente evidente che noi abbiamo fatto una una politica particolarmente sui giovani considerate che quella di ieri sera non la non la non la non la non la non la la penultima partita in casa avevamo una media di 22,9 anni quindi una media sinceramente sicuramente molto bassa ma che insomma la dice lunga sulla nostra politica di giovani Ania Andrea una domanda rapidissima così liberiamo il direttore che è stato gentilissimo a raccogliere il nostro il nostro invito Ania Salve direttore buonasera lei che conosce bene Costa Ferreira proprio Costa Ferreira oggi ha parlato di un suo futuro da da allenatore vedendosi appunto come allenatore ma lei lo prenderebbe per la sua panchina ma per le qualità umane sicuramente Pedro è una gran persona oltre che essere un grande giocatore insomma lui mi ha dato una grande mano io l'ho presi a Lecce quando lui stava giocando nelle entelle in serie B e venne a darci una grande mano ecco lui abbiamo fatto una una promozione una promozione in serie B dalla C alla B che è stata storica per per il Lecce insomma io lavoravo a Lecce fino a poco tempo fa e ora che lui il consiglio che gli do di giocare fino a quando ne può fino a quando ha voglia e ha entusiasmo perché il calciatore è un mestiere particolarmente privilegiato quando si smette poi guarda come sono diventato io ero poi un ex calciatore lo segui finché puoi io invece saluto saluto il direttore buonasera direttore le faccio questa domanda non so se se può sembrare banale però visto che qui si parla di serie C in questa trasmissione c'è un giocatore nello Spezia ovviamente Nzola che fino a un anno e mezzo fa giocava in serie C ha fatto molto bene a Trapani poi ha fatto molto bene in quella parentesi allo Spezia lo scorso anno prima che lo riprendeste ora lo avete ripreso e addirittura sta strabiliando forse sta facendo meglio in serie A di quanto già bene avesse fatto in B e in serie C come si fa in un anno e mezzo come fa in un anno e mezzo un giocatore tra i 22 e poi i 24 anni ad arrivare a questi livelli in serie A essendo partito dalla serie C dove faceva bene ma ora ha migliorato sensibilmente il suo rendimento è proprio uno di quei casi in cui poi si pesca anche in serie C giocatori che hanno prospettive io nella mia lunga carriera per esempio pescai addirittura lavoravo nel Pisa tanti anni fa pescai addirittura nei dilettanti Mannini che poi ha fatto una carriera è andato in Ander 21 ha giocato nel Napoli nella Sampdoria uno vendetti al Brescia quindi questo perché secondo me io credo che nel calcio bisognerebbe come tutte le aziende una percentuale del fatturato viene utilizzata per la ricerca nel calcio bisognerebbe utilizzare un po' di più lo scouting ma in maniera seria perché io devo dire che ho delle persone che lavorano con me che mi fanno scouting e che sono dei fidatissimi consiglieri che per me sono importantissimi quindi Zola era un giocatore che lo Spezia ha avuto già l'anno scorso qui però non era stato riscattato quindi era ritornato al Trapani l'abilità che abbiamo avuto è stata quella di prenderlo a zero e di crederci noi ci abbiamo creduto perché comunque l'allenatore secondo me Zola si esprime molto bene con questo allenatore che ha riuscito a toccargli le corde giuste cioè direttore praticamente Zola era ritornato in serie C al Trapani che poi ha avuto quella vicenda particolare che ha portato il giocatore a svincolarsi e lo avete ripreso un doppio salto in poco tempo beh lui l'anno scorso l'anno scorso comunque ha giocato in sei mesi finali del torneo con lo Spezia in serie B quindi comunque aveva già fatto la serie B l'aveva anche vinta quindi tutto sommato aveva ritornato diciamo come tesseramento al Trapani perché lo Spezia non l'aveva riscattato e poi abbiamo avuto l'intuito e l'abilità di portarlo a zero perché il Trapani poi nel frattempo non è stato iscritto al campionato professionistico per cui tutti i tesseramenti sono decaduti e lui ha firmato un contratto pluriannale con noi per cui oggi per noi diventa una plusvalenza vera e anche molto molto consistente perché è attenzionato da molte società io di questo sono certo insomma un giocatore che è ancora un 96 a 25 va per i 26 anni e ha già fatto 9 gol insomma in 12 partite è un giocatore che è molto attenzionato quindi scouting questo è il segreto questo è il segreto ma non è un segreto penso che sia una cosa molto semplice più che segreto bisogna crederci cioè i club devono tornare a investire nello scouting questo è un po' il senso beh sì io credo che sia fondamentale lo scouting è importantissimo perché ti fa insomma ti apre mercati nuovi comunque ti apre molte possibilità noi quest'anno abbiamo fatto 19 acquisizioni e 12 gestioni quando io sono arrivato il primo di settembre il mercato chiudeva il 5 e il 19 poi è stata rinviata il 26 di settembre si giocava la prima di campionato quindi è stato un tour de force di quelli che non ho mai avuto in vita mia e abbiamo fatto tutte queste operazioni in poco tempo ma perché appunto avevo alle spalle gente che aveva lavorato con me anche io avevo lavorato avevamo lavorato ovviamente in prospettiva di Lecce e poi purtroppo con il Lecce si era chiusa un'avventura e abbiamo riproposto quel lavoro a Spezia che ci eravamo preparati e infatti abbiamo preso molti giocatori anche dall'estero che io personalmente ero andato a vedere in Brasile in Argentina e anche in altri paesi abbiamo preso un nazionale albanese che si chiama Ismaili questo è Stevez che ha giocato ieri sera questo argentino che avevamo visto dal vivo Leo Sena dal Brasile insomma abbiamo fatto un lavoro capillare a Monte anche perché le opportunità all'estero diciamo le occasioni all'estero ti erano l'opportunità di poter spendere anche meno perché ovviamente abbiamo fatto un mercato creativo questo è un po' il nostro è stato un po' quello che ci ha spinto quest'estate che ci ha portato poi a fare tutte queste acquisizioni grazie direttore per essere stato con noi ovviamente in bocca al lupo per sabato alle 18 ho controllato il calendario sabato alle 18 c'è Torino Spezia quindi buon secondo tempo della gara di Coppino io vado a rivedere la partita grazie grazie dell'invito e auguri a tutti grazie 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 al direttore sportivo dello Spezia Mauro Andrea ciao Spezia che quest'anno ha vinto per esempio anche a Napoli giusto per per far capire ragazzi vediamo rapidissimamente il prossimo turno perché a proposito di scouting vi do un nome vi do un nome in anteprima perché tempo fa avevo detto Pandolfi voi ridevate e invece Pandolfi poi Pandolfi adesso vi do non me ne vogliono i tifosi del Teramo ma nella Viterbese c'è Urso dategli un'occhiata magari gettateci uno sguardo perché è veramente forte speriamo che vada male quello che abbiamo detto proprio con il direttore e quello che stai dicendo tu rientra nel discorso che perché ho tirato fuori il discorso onzolà con Meluso riferimento anche a quello che può fare il Teramo cioè prima ho detto si può anche spendere di meno ma fare una squadra competitiva bisogna avere l'occhio lavoro in sinergia società allenatore direttori capacità chiaramente di valutare i giocatori e così facendo si può costruire una squadra che magari non costerà come il Teramo dell'anno scorso e in parte di quest'anno ma che sia assolutamente competitiva cioè è lì il nocciolo della questione assolutamente alle 17.30 domenica grazie ragazzi mi date lo spunto per ricordarvi che domenica domenica ci sarà una giornata incredibile per chi ama il calcio e lo sport di casa nostra perché avremo la giornata di serie D che si aprirà sabato con l'anticipo vastese Castelnuovo contro tutto abruzzese ma poi domenica diretta stadio fiume perché poi c'è Pescara Cremonese non ci fermiamo mai perché alle 17.30 c'è Viterbese Teramo e non ci fermiamo ancora perché poi c'è l'Abruzzo del pallone e quando sverremo praticamente ci fermeremo ecco qua infatti si è già innervosito il regista che ci invita a chiudere esatto mi ha detto di chiudere ciao ragazzi grazie per essere stati ciao a tutti questa sera grazie a Maurizio Daquie e a Samuole Mucci in regia grazie a voi che ci avete seguito martedì prossimo ore 21 sempre su TV6 ci vediamo settimana prossima